Buongiorno, Vincenzo Longo dalla sala operativa di IG di Milano. Proseguono contrastate le borse europee questa mattina con gli investitori che rimangono in attesa dell'audizione di Janet Yellen di questo pomeriggio davanti al congresso statunitense. Il mercato sembra attendere le parole della numero uno della Fed che rappresentano i primi commenti pubblici dopo la vittoria di Trump alle presidenziali della scorsa settimana. Probabilmente la Yellen richiamerà la prudenza dopo che le recenti aspettative inflattive sono cresciute notevolmente sulla scia di una politica fiscale ultraespansiva promossa dal neopresidente Trump. Queste indicazioni dovrebbero contribuire a sgonfiare un po' il dollaro che ieri si è spinto ai nuovi massimi da quasi un anno a questa parte verso euro. Tornando in Europa, Piazza Affari si conferma essere ancora la peggiore borsa del vecchio continente penalizzata soprattutto dalle banche. Da inizio settimana i timori in vista del referendum costituzionale si sono intensificati con il mercato che sembra scontare giorno dopo giorno una crescente probabilità della vittoria del fronte del no. Oltre allo spread BTP Bund tornato stabilmente sopra area 170 punti base, il termometro delle tensioni è rappresentato dai titoli bancari, in particolare da Intesa San Paolo, la migliore banca italiana e una delle più patrimonializzate a livello europeo. Il titolo, che proprio la scorsa settimana, subito dopo la vittoria di Trump, era tornato temporaneamente sopra i livelli pre-Brexit, in prossimità di 2,30€, ha iniziato ora un declino che in 5 sedute l'ha portato al test della trendline rialzista principale di medio periodo. Il supporto strategico passa in prossimità di questa trendline, che in questo momento transita proprio sull'area dei 2€. Al di sotto di tale livello le vendite potrebbero accentuarsi con target verso 1,80€ e poi si va direttamente giù sui minimi estivi registrati dopo il referendum Brexit a 1,50€. Potrebbe essere questo uno scenario non troppo prudente nel caso in cui all'indomani del referendum del 4 dicembre dovesse vincere il fronte del no, quindi attenzione perché le vendite potrebbero riportarlo anche sui nuovi minimi da inizio anno. Per oggi è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buona giornata e buon trading.